Nei secoli sono stati creati dei veri e propri capolavori sulla carta. Ancora oggi il disegno si insegna nelle accademie d'arte e moltissime sono le tecniche artistiche che utilizzano la carta come supporto. Un cavalletto, un foglio di carta, una matita, un carboncino o un pennello, un soggetto da ritrarti, mani sapienti e la magia della creazione artistica si compone pian piano sotto i nostri occhi. Siamo venuti all'Accademia delle Belle Arti di Roma per capire la stretta relazione che da secoli lega gli artisti alla carta. La diffusione della carta in effetti ha dato impeto al disegno e ha fatto nascere nuove tecniche artistiche, disegni eseguiti ad acquarello, a matita, con la sanguigna o a carboncino non esisterebbero senza la carta. In questa grande aula di disegno tanti promettenti artisti imparano a disegnare con le più svariate tecniche. Questa parte qua è più chiara, mentre queste parti interne, vedi dove il seno tocca l'addome. Per ciascuna tecnica artistica è necessaria una carta differente. Grammature e tipi di superficie più adatte dipendono da molti fattori, dalla necessità, ad esempio, di poter cancellare facilmente o inumidire la carta quando si esegue un lavoro a colori. La punta d'argento si esegue su carta patinata, mentre l'acquarello su una carta che possa assorbire bene l'acqua. La scelta della carta è così importante che alcuni artisti la producono al loro gusto nel laboratorio della carta dell'Accademia. Grazie a tutti.